Sì, sì, ma tu hai troppa premura di Bertolo. Sto becchiera d'acqua, anche perché tu non hai che c'è più molta cartuccia da spanare. Scerrillo, feriamola con questa cartuccia, che io ancora sono un uomo integro. Me lo prendi tu il libro per piacere? Io? Sì, a me quando salgo sopra la scala mi viene il capogiro. O capogiro. Tu, maritare della vuosio. E perché nell'eventuale età che ci sarebbe da male? È una brava ragazza, buona, una buona... E' una serba. Io? E che ho fatto? E i ladri? Il sogno di anzino, il fantasma di tua madre? Ma che credi che non t'ho capito io? No, no, non lo fermare! Taglielo, Nino, taglielo ancora! Beh, stai a te, pentino! Fare tutto, ci metti! Ti insegno io a fare il calento. Angia! Dov'è volere! Angia! Non mi posso fermare! Guarda! Stupida, ma che credi che non l'ho visto quando gli facevi gli occhi dolci? Cretini, tu e lui. E a te che te ne importa? Io ora vado da Don Cirillo, lo porto qua, così ai ragazzi ci parlo davanti a lui. Se si convincono, si convincono, se no ve ne sbatto io... Sì, sì, va bene, però... Sarebbe meglio riflettere, aspettare, che so. Ti vuoi aspettare, Angelina? Che aspetto, io aspetto, che aspetto? Se sono una data di sviluppo, io aspetto. Ciao! 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 Grazie a tutti